La Presidente della Regione Calabria, Santelli, dispone della riapertura di bar e ristoranti all'aperto. Sindaci calabresi in rivolta, il Governo pronto alla diffida. Vittorio Romano e poi Alessandro Gamberi. Tirano fuori i tavolini e preparano il primo caffè. A Cosenza, dopo l'ordinanza del Governatore Santelli, si può fare colazione al bar. Non credevo loro, io sono cliente abituato, 12 volte al giorno vengo qua. Sul pavimento hanno incollato questi adesivi per dare ordini alle code, ma di clienti, se ne vedono pochi. Non è che cambia tanto, dal 30 al 4, però è sempre qualcosa che riesce in un boss. Se dai la libertà a tutti, non si sa come finisce. Da oggi i ristoranti, pizzerie, pasticcerie, agriturismi e bar possono riaprire, ma niente bancone, previsto solo il servizio e i tavoli all'esterno. Obbligatori guanti e mascherine anche per i clienti e termoscanner all'ingresso. Ma in mezzo a Calabria la fuga in avanti dura solo una notte. I sindaci di Catanzaro, Reggio e Lamezia non sono d'accordo e sospendono l'entrata in vigore delle nuove norme regionali. Troppo alto il rischio di una nuova ondata di contagi. Le serrande di bar e ristoranti restano giù fino al 4 maggio. Grazie a tutti.